Maury Cardi sembra sempre più lontano dall'Inter, almeno così pare, ma poi leggendo e sentendo le varie dichiarazioni del suo agente Vandanara tutto cambia. Nessun male viene per nuocere, ogni cosa accade per una ragione e mai, mai trionfa il male, è solo questione di saper aspettare. Così la showgirl argentina, moglie e agente del calciatore nell'azzurro, sul proprio profilo Instagram con un tifoso che, leggendo tra le righe, coglie la palla al balzo per chiederle la conferma dell'ex capitano dell'Inter. Fallo restare e la risposta della subret, però da tempo aditata come la principale responsabile della frattura fra i Cardi e la società meneghina, nonché a lavoro da mesi per portarlo via dal capoluogo Lombardo, spiazza il popolo dei social e gli esperti di calciomercato. Lavoro fatto, con tanto di inequivocabile tag al supporter intervenuto nei commenti. Adesso naturalmente la palla passa a Conte e Marotta, oltre che ai diretti interessati, ricucire lo strappo creatosi nella seconda parte della stagione appena archiviata, oppure dirsi definitivamente addio? È nata nelle ultime ore una pazza idea di mercato, uno scambio tra Lorenzo Insigne e Mauro Icardi, Napoli e Inter. L'idea è venuta fuori concretamente neanche troppi giorni fa, nel corso di un contatto tra club, provare a costruire l'affare sulla base di uno scambio che non prevede Zielischi, tanto per citare un nome gradito ad Antonio Conte, ma ritenuto incidibile, bensì Lorenzo Insigne. La chiave individuata è questa, ora bisognerà capire se le parti avranno intenzione di farla girare. Le certezze attualmente sono due, l'Inter, dopo tutto quello che è accaduto con Maurito Icardi, nella stagione appena conclusa è pronta a negoziare la sua cessione, ed il Napoli, che sull'argentino era già andato dopo l'addio di Gonzalo Higuain, sta facendo un pensiero serio all'operazione nell'ambito del casting dei grandi attaccanti messo in piedi in questo periodo. E così, dopo una serie di richieste di Marotta rifiutate da De Laurentiis, gli intermediari al lavoro hanno individuato un nome forte quanto quello di Icardi, Insigne, che dal canto suo qualche pensiero continua ad averlo. L'idea comunque è stata lanciata, Napoli ed Inter studiano l'affare, che non è da escludere, possa anche andare in porto. In casa Sampdoria, dopo l'addio, praticamente certo, di Marco Giampaolo, destinazione Miral, la certezza della panchina è Stefano Pioli. C'è l'accordo su tutto, intesa biennale e convergenza totale sulle strategie di mercato. La Samp deve solo mettere il contratto in cassaforte, ma c'è l'idea fissa Eusebio di Francesco. I bluciarchiatici proveranno ancora una volta in queste ore, prima di voltare definitivamente pagina. Il gradimento verso Pioli è assoluto da parte della dirigenza, ma il presidente Massimo Ferrero ha nella cassetto il sogno di convincere Di Francesco con una proposta triennale per spalmare anche l'ingaggio da 3 milioni di euro che lo lega alla Roma fino al prossimo giugno. Entro 48 ore al massimo, il numero uno della Samp vuole capire se la via è percorribile o se bisognerà far decollare il progetto Pioli. Manca meno di un mese alla ripartenza della nuova stagione del Benevento, ma gli stregoni devono ancora scegliere l'allenatore. La dirigenza è al lavoro. L'identikit, tracciato dal presidente Vigorito, ha fatto uscire dalla corsa alcuni nomi, facendone entrare degli altri. Chi però non ha subito scossoni è Pippo Inzaghi. Il nome dell'ex tecnico di Milan, Venezia e Bologna era entrato nel mirino giallorosso già prima della Prodo in rosso-blu. Quest'anno l'impresa appare più semplice anche perché Inzaghi accetterebbe in B solo la guida di una nuova squadra molto ambiziosa. Il suo resta il nome che circola di più, insieme a quelli certamente meno conosciuti, ma comunque molto validi, di Dionisi, Marcolini e Italiano.